Il 28 di dicembre continuiamo il nostro tour per i teatri di tutta Roma e siamo in diretta dalla sala Umberto. Buonasera Mario. Buonasera caro Francesco, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano su www.radio.manamara e su www.radio.manamara comunque in tutto il mondo, in tutto il mondo Anche su Mario, perché se ci guarda il servito, adesso ci guarda il servito andiamo anche lui, approcciate come dico che ci hanno fatto la diffida Allora, la voce che avete appena scoprata è quella di Gianmarco Toglianzi Buonasera Gianmarco, che è insieme a Bruno Armando Buonasera, grazie, grazie, grazie Allora, per quelli che non riescono a vedere le facce dalla radio per fortuna, per d'oro Allora, tutti e quattro Gianmarco Toglianzi, lo dico perché sono passato qui davanti ai cartelloni, non mi arrivano i miei dici anni ma sì, è quello che guidava la ruspa ai soliti morti Allora, questa è una cosa, una bella parruzzariccia Mentre Bruno Armando ha studiato tantissimo, De Haro, eccetera e poi viene ricordato perché era il procuratore di distretto di polizia Esatto, è così Non fa, non può arrabbiare queste cose Ma no, ma no, perché si fa tutto, no? Le cose che hanno successo poi sono quelle per cui vieni ricordato Poi è chiaro che i successi cambiano Per cui magari per due anni viene ricordato Perché il successo dei due anni prima Ne arrivano un nuovo, ti ricordano solo per l'ultimo Poi ne arriverà fortunatamente un altro E ti ricorderanno solo per l'ultimo L'importante è averne però Penso che Sica se non riesci a avere mai un successo Non ti ricorderanno mai Non ti ricorderanno solo per l'ultimo